Le immagini parlano chiaro, un uomo con un pick-up intento a scaricare in modo indiscriminato rifiuti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, proprio per censurare tali comportamenti e applicare sanzioni, lasciano spazio in realtà a pochi dubbi. Le ha pubblicate anche l'SM sulla propria pagina Facebook. Tutte le procedure amministrative sono già iniziate per verificare l'accaduto, anche se ad una prima battuta verrebbe da dire che c'è poco da verificare, la realtà è quella. Il video integrale ovviamente è stato tagliato, ma si leggono orario e data e sicuramente la targa del mezzo è già in possesso di chi dovrà operare. L'assessore comunale all'ambiente Emanuele Imprudente, in più di un'occasione, ha parlato di questa bruttissima abitudine dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti e ha sempre detto che da parte del comune ci sarà massima attenzione e soprattutto una linea dura, come è giusto che sia. Come assessorato del resto si sta facendo il massimo per inculcare anche un certo tipo di cultura dell'ambiente nel cittadino, così come sta facendo l'azienda. Comportamenti di questo tipo lasciano essere fatti e inducono alla riflessione. Oltre alle procedure amministrative, qualora venisse fuori che la responsabilità dell'abbandono è riconducibile ad una ditta, si attiverebbe anche la giustizia penale. Ribadisco che l'SM si costituirà parte civile in ogni procedimento, chiedendo il notevole risarcimento dei danni all'ambiente e alle tasche degli aquilani. Questo è il commento dell'amministratore unico dell'SM, Francesco Rosettini, invece. Del resto, con un'azienda che dopo tante difficoltà sta consegnando un bilancio finalmente pulito e inattivo, con comune e l'assessorato vicino alle esigenze dell'agente, che interviene subito dopo le segnalazioni, la maleducazione di qualcuno lascia veramente perplessi.